Le top 10 manga hanno spopolato, sono richiestissime dai fan e spesso portano altri video di reazione che portano altri video di reazione o portano anche commenti del tipo ma come fai a mettere x sopra y, come fai a non mettere z eccetera. Come molti dicono nella loro introduzione si parla di fare una classifica dei propri manga preferiti, quindi soggettiva. Io le guardo con piacere perché le reputo buoni spunti di lettura. A volte qualcuno mi ha trasmesso la sua passione per un determinato manga che gli è piaciuto e che magari incuriosito poi mi sono andato a recuperare. Insomma io le uso a questo scopo. Però poi mi sono chiesto qual è la top 10 manga totale che si ottiene sommando i punteggi di tutte le top 10 manga pubblicate? Allora me le sono guardate tutte, spero, e ho assegnato ogni volta 10 punti al manga in prima posizione, 9 punti al manga in seconda posizione fino a un punto al manga in decima posizione. Se ad esempio in ultima posizione qualcuno ha inserito due manga assegno un punto a ciascun manga. Dopo sto lavoraccio mi son detto che forse qualcun altro sarebbe stato interessato a conoscere i risultati senza però perdere tutto il tempo che ho perso io e quindi benvenuto in questo video. L'elenco delle al momento 20 top 10 che ho consultato comparirà nella schermata finale e in descrizione. Scrivimi nei commenti chi ho dimenticato solo se rispetta le tre regole che ti dirò a breve così lo aggiungo in descrizione e aggiorno la classifica sempre in descrizione. Non ti chiedo in anticipo di mettere mi piace al video, condividerlo, iscriverti al canale. Prima guardati il video poi sentiti libero di esprimerti come meglio ti pare. Ecco le tre regole, attenzione. 1. Considero solo i video in italiano caricati su youtube. 2. Considero solo i canali youtube con almeno mille iscritti. 3. Non considero le top 10 di manga indirizzati solo a un determinato pubblico come ad esempio top 10 shonen, top 10 seinen eccetera. Basta con le chiacchiere, ecco la top 10. Decimo posto, full metal alchemist con 24 punti. Apre la classifica un'opera inserita in molte top 10 ma che non sale mai su nessun podio personale. Vi è quindi un apprezzamento diffuso, una riconoscenza verso tale manga che però non è considerato degno di medaglia da nessuna delle 20 al momento classifiche analizzate. Numero che crescerà, aggiornerò i dati in descrizione, bla bla bla. Nono posto, death note con 30 punti. Come hai già potuto capire andrò avanti veloce senza riassunti e né spoiler. Ottavo posto, buonanotte pun pun con 31 punti, un oro e un argento personale. Settimo posto, l'attacco dei giganti con 33 punti. Un manga che mi immaginavo di trovare più in alto in classifica. Prima di sommare i dati raccolti, grazie matematica, poche come te sanno infrangere le nostre sensazioni. Sesto posto, slam dunk con 37 punti. Apprezzato anche da chi, parole loro, col basket ci ha sempre avuto poco a che fare. Quinto posto, devil man con 47 punti. Un oro e due argenti personali, quindi già 28 punti, per un manga che è amato tanto da chi lo ama. Quarto posto, non c'è. Come non c'è? Non c'è un quarto posto, perché sul podio c'è un ex equo, in terza posizione e quindi sul podio ci salgono in quattro. Sembra fatto apposta ma io mi limito a sommare dei numeri non faccio altro. Una delle due opere al terzo posto è Naruto con 55 punti, manga che compare in più podi personali ma mai al primo posto. L'altra opera al terzo posto è Berserk con 48 punti, opera incompiuta che comunque riesce a superare quasi tutti i 129 manga che fanno parte delle 20 top ten analizzate per questo video. Secondo posto, la medaglia d'argento va a un'altra opera incompiuta, One Piece, con 62 punti. Questo secondo posto risente del fatto che essendo incompiuta, come l'appena citato Berserk, non è stata inserita a prescindere nelle classifiche di alcuni che hanno fatto la scelta di inserire solo opere compiute, ma chi lo inserisce lo mette spesso e volentieri sul suo podio. Prima di nominare il vincitore ne approfitto per dirti la top 5 totale dei manga incompiuti. Hunter Hunter, 17 posto totale, Le bizzarre avventure di Jojo, 15esimo, Vagabond, 13esimo, Berserk, terzo posto, One Piece, secondo posto. Primo posto, la medaglia d'oro va a un manga che ne ha influenzate abbastanza di opere che stanno sotto di lui e tutti i manga stanno al momento sotto di lui, Dragon Ball, con 81 punti e 5 primi posti personali. Curiosità, soltanto uno ha posizionato Dragon Ball il gradino sotto Naruto e un altro lo ha posizionato il gradino sotto One Piece. Gli altri che lo hanno inserito nella loro classifica personale, insieme a uno di questi due, non hanno messo Dragon Ball sotto. Fine. Come ho già detto, scrivimi nei commenti quale youtuber ho dimenticato, se rispetto alle tre regole. Vorrei che tale classifica rimanesse totale e qualche volta torna in questo video per vedere in descrizione la classifica aggiornata con le nuove top ten pubblicate o gli aggiornamenti di chi l'aveva già pubblicata. Non serve che io faccia un breve riassunto delle opere che ho citato. Se non ne conosci qualcuna, comprala e leggila subito sulla fiducia. In questo canale pubblicherò dei video per ognuna delle opere che ho citato. E chissà se un giorno, non ora, anche io me la sentirò di fare la mia top ten e quindi democraticamente contribuire alla top ten manga totale di YouTube Italia. Grazie.